Minichizumab rappresenta il primo farmaco approvato in colite ulcerosa con grado di attività moderata grave che inibisce selettivamente l'interlochina 23 che è uno dei mediatori fondamentali del processo infiammatorio a livello intestinale cioè quel processo che porta a quelle che sono non solo le manifestazioni d'organo come le ulcere ma anche ai sintomi come la la diarrea e il sangue nelle feci. Questo farmaco ha dimostrato nel suo programma di sviluppo l'U101 e l'U102 una ottima efficacia sia a partire dalle prime settimane di trattamento quindi alla termine dell'induzione quindi parliamo di 12 settimane con un controllo totale della malattia in circa un quarto dei pazienti ma comunque con una sostanziale riduzione dei sintomi in più del 60 per cento dei pazienti ma anche poi nella fase di mantenimento raggiungendo più del 40 per cento dei pazienti in completa remissione a 40 settimane. Una cosa che è stata studiata nello specifico in questo studio è l'urgenza evacuativa. L'urgenza evacuativa è un sintomo estremamente impattante sulla vita dei pazienti è quel sintomo che relega il paziente a casa nel timore di aver bisogno di un servizio igienico e che quindi riduce notevolmente anche quella che è la sua capacità lavorativa produttiva in un'età che ricordo quella in cui vengono colpiti maggiormente i pazienti è quella che fascia di età che va dai 20 ai 50 anni quindi abbiamo una malattia che impatta nella fase di maggior produttività di ogni singolo soggetto. Per la prima volta nel programma di sviluppo di questo farmaco è stato preso in considerazione questo sintomo ed è stato quantificato. Questa quantificazione ha dimostrato come Milikizumab sia in grado di controllare completamente alla fine del trattamento quindi ricordo 40 settimane da quello che era previsto dallo studio in più della metà dei pazienti ma cosa che interessa ancora più i pazienti il controllo di questo importante sintomo avveniva già dalle prime tre settimane di trattamento quindi offrendo la speranza la possibilità questi pazienti di avere vedersi restituita una vita che fino a quel punto era stata rubata dalla malattia. Questo è un farmaco come tutte le terapie avanzate nell'ambito delle malattie infiammatorie croniche intestinali che deve essere prescritto da un medico gastroenterologo specialista in queste malattie infiammatorie croniche intestinali. Ci sono diversi centri di riferimento in tutto il territorio nazionale, sono dei centri che hanno l'esperienza derivata dal grosso volume di pazienti che vedono quotidianamente, gli permette di capire se un determinato paziente ha indicazione a questo farmaco e soprattutto inserire questo farmaco all'interno di un programma terapeutico che deve prendere in considerazione come arco temporale tutta la vita del paziente e non soltanto un periodo limitato di tempo.